La buona notizia è che questo periodo che abbiamo passato tutti, che ci ha sicuramente portato un pochettino di dispiaceri e di fastidi, in realtà ha portato anche qualcosa di buono. Il fatto che tutti potessimo praticare yoga da casa e il fatto che noi insegnanti siamo riusciti ad arrivare a voi attraverso lo schermo di un telefonino o di un computer, questo secondo me è fantastico perché davvero il potere dello yoga è enorme e arrivare anche attraverso la tecnologia è il futuro, per cui spero che continuate a farlo, io vi aspetto con il mio progetto personale che si chiama WonderYogi, come tantissimi altri insegnanti, ognuno al proprio e quindi ritroviamoci lì. Grazie